ancora ben trovati con milano pavia news l'edizione pavia vediamo subito i fatti in primo piano in questa giornata è stato un pomeriggio agitato quello di ieri ad albuzzano un 45 anni con problemi psichiatrici ha dato un'escandescenza in strada l'uomo è stato portato al san matteo e ci sono anche i lavori su un tratto della statale del penice tra valde staffro e valtrebbia nel mirino della procura di milano che sta indagando sulle commesse affidate ad anas una commissione consigliere aperta tutta la città sui temi della mobilità della sicurezza stradale è stata convocata per domani pomeriggio dopo gli ultimi incidenti ed è meno il tempo di programmare i lavori sulla copertura che ha ricominciato a piovere nella scuola media bisozio e vigevano l'acqua è entrata in cinque aule spostati gli studenti nel fine settimana attorno alla vigevano pavia maraton la gara di canoasola a lunga distanza sul ticino giunta la sua 54esima edizione prevista anche una gara di dragoni in rosa in apertura in questa edizione del nostro telegiornale la cronaca un fatto di ieri pomeriggio un uomo visibilmente alterato in strada ad albuzzano andato in escandescenze è intervenuto anche il sindaco e l'uomo è stato quindi trasferito al policlinico san matteo sentiamo è stato un pomeriggio agitato quello di mercoledì ad albuzzano dove un 45enne con problemi psichiatrici ha dato in escandescenze in una zona residenziale sul posto sono arrivate in pochi minuti i carabinieri e un equipaggio del 118 assieme al sindaco marco tombola l'uomo era in forte stato di agitazione ed è stato necessario l'intervento di più persone per calmarlo alla fine è stato disposto un accertamento sanitario obbligatorio come amministratori ci sentiamo abbandonati spiega tombola perché non abbiamo gli strumenti per gestire questo tipo di situazioni è assurdo che uno psichiatrico che per definizione non è capace né di intendere di volere deve sottoporsi autonomamente a delle cure e non può essere come dire fermato in modo coatto è una situazione che capita purtroppo spesso e credo che non sia l'unico sindaco a trovarmi in queste situazioni è già capitato anche nel nostro paese di vedere situazioni di famiglie disperate e che non sanno a che santo fare appello è una situazione che non è assolutamente sostenibile e non è neanche una situazione giusta è difficile trovare medici disposti a firmare i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori prosegue tombola è un tema che potremo sollevare alla prossima assemblea dei sindaci in ATS noi sindaci siamo spesso soggetti a richieste della popolazione che ignara di come funziona la legge in Italia ci chiedono degli interventi ma un sindaco senza l'ausilio di almeno due medici non può firmare alcun TSO nella migliore dell'ipotesi si trova un medico per firmare un ASO che è un accertamento sanitario obbligatorio ma poi nelle facoltà del medico decidere se sottoporre il paziente a trattamento o meno spesso non viene sottoposto se non lo decide il paziente stesso quindi torna sul territorio ad essere un pericolo per tutti In ospedale sono stati ricoverati anche due giovani ventenni a Robbio alla termine di una rissa scattata in centro ieri sera sentiamo Rissa in pieno centro a Robbio nella serata di mercoledì coinvolti due gruppi di ragazzi di nazionalità marocchina tra di loro ci sono due giovani finiti in ospedale con anche alcune ferite d'arma da taglio un episodio sul quale sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Robbio che dovranno chiarire anche i motivi della lite ad oggi ancora sconosciuti è successo tutto intorno alle 10 di sera di mercoledì tra via Roma e piazza della libertà la piazza del municipio stando le prime ricostruzioni al vaglio delle forze dell'ordine ad aver partecipato alla zuffa sarebbero state diverse persone si parla di almeno 5 o 6 la lite sarebbe avvenuta all'esterno di un locale che si trova nel centro di Robbio ad avere la peggio sono stati due ragazzi uno di 24 e l'altro di 29 anni finiti in ospedale dopo la richiesta di intervento del 118 per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzura Robbiese che dopo le prime cure prestate sul posto ha trasportato i due feriti in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano per tutti i controlli medici di rito entrambi hanno rimediato alcune contusioni le loro condizioni non destano preoccupazione i sanitari hanno rilevato anche un'arma da taglio ma anche questo aspetto è al vaglio degli inquirenti i carabinieri stanno identificando tutti i presunti partecipanti alla colluttazione in quel caso per loro scatterebbe una denuncia per rissa e la lente della procura di Milano che sta indagando sulle commesse affidate ad Anas si sta concentrando anche su alcuni lavori inoltre po' sulla statale del Penice ci sono anche alcuni lavori su un tratto della statale del Penice fra la Valle Staffora e la Valtrebbia nel Piacentino, nel mirino della procura di Milano che nelle scorse ore ha reso nota un'inchiesta per corruzione sulle commesse affidate ad Anas per la manutenzione delle strade la guardia di finanza ha infatti appena chiesto ad Anas la consegna immediata della documentazione relativa a una serie di gare d'appalto in Lombardia fra cui appunto quella sulla statale 461 che collega Voghera a Menconico passando da Varsi le perquisizioni sarebbero in corso al momento presso la sede centrale di Roma secondo quanto emerso finora si parla di tangenti per circa 400 mila euro su appalti per lavori stradali per 400 milioni 9 al momento le persone indagate l'appalto più consistente riguarda la variante Tremezzina della statale Regina nel Comasco mentre altre del valore di alcuni milioni di euro altre arterie viabilistiche oltre a quelli sulla statale 461 del Penice i lavori di manutenzione messi in sicurezza al centro dell'inchiesta per la corruzione turbativa degli incanti sono quelli svolti lungo la statale della Valtidone lungo 33 chilometri della statale 469 Sebina Occidentale in provincia di Bergamo e su due lotti della Brescia Soave Avvigevano adesso con le notizie non c'è pace per la scuola media scusate Besozzi nemmeno il tempo di programmare i lavori sulla copertura che ha ripreso a piovere nelle aule L'amministrazione comunale ha appena programmato l'inizio dei lavori per la copertura della scuola media Besozzi per il 10 ottobre e subito ricomincia a piovere l'acqua dal soffitto entra in 5 aule al primo e al secondo piano accade almeno dal 2023 e quantomeno i presi degli insegnanti hanno avuto il tempo di correre i ripari cioè di spostare gli alluni nei laboratori d'arte e di scienze intanto il personale ATA ha piazzato secchi e secchielli dove ci sono le perdite per raccogliere l'acqua qualcuno ha riciclato in mancanza d'altro anche i contenitori in plastica per la carta il 10 ottobre cominceranno i lavori che erano già stati programmati dal 16 al 20 settembre ma per il maltempo non si sono potuti fare nei prossimi giorni bisogna sperare nella clemenza del tempo che però non promette bene potrebbe così finalmente risolversi un problema che la scuola Besozzi di Viale dei Mille si trascina dal 2023 a quel periodo risale la prima segnalazione che è stata ritrovata anche se nella stessa lettera si fa riferimento a una precedente resta il fatto che le infiltrazioni di acqua stanno rovinando l'intonaco di pareti e soffitto di un edificio che è stato costruito e inaugurato soltanto 15 anni fa a Pavia invece la preoccupazione per i tanti, troppi incidenti stradali che si sono verificati nell'ultimo periodo se ne parlerà in una commissione consigliare aperta convocata per domani pomeriggio in Comune sentiamo Una commissione consigliare aperta a tutta la città sui temi della mobilità e della sicurezza stradale a Pavia è stata convocata per venerdì 4 ottobre alle 18 su proposta di Cosimo Lacava presidente della commissione seconda e consigliere comunale eletto con il Partito Democratico un momento di analisi e confronto che si è reso necessario a causa dei numerosi incidenti stradali verificatesi negli ultimi tempi Pavia ha spiegato Lacava un problema grande e rilevante che pregiudica la qualità della vita delle persone e della loro salute l'ultimo episodio di cronaca si è verificato alla rotonda di Porta Milano dove nei giorni scorsi un uomo di 77 anni è stato investito e trasportato al policlinico San Matteo ma gli incidenti che vedono come vittime pedoni o ciclisti sono ormai all'ordine del giorno il 2023 è stato un anno nero per il capoluogo con 4 morti sulle strade non se ne erano mai registrati così tanti in soli 12 mesi Alta velocità e uso del telefonino alla guida sono tra le principali cause come spiegato dalla polizia locale in occasione dell'ultimo bilancio sull'attività del corpo per questo motivo è necessario proteggere l'utenza debole della strada l'obiettivo della commissione aperta è trovare risposte concrete fin da subito coinvolgendo nel dibattito non solo i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione ma anche comitati ed associazioni che possono portare i loro contributi alla discussione per partecipare con il proprio intervento è necessario scrivere una mail a consigliochiocciolacomune.pv.it è un incidente stradale per tornare alla cronaca stretta si è verificato nel pomeriggio di oggi poco fuori stradella vediamo che cosa è successo brutto incidente nel pomeriggio di giovedì lungo la statale 10 padana inferiore poco fuori dal centro abitato di stradella in direzione Piacenza una mini verde su cui viaggiavano due giovani un uomo di 35 anni e una donna di 25 per causa in corso di accertamento è uscita di strada finendo in un boschetto accanto alla carreggiata è accaduto attorno alle 13.30 di giovedì nei pressi della sede della Croce Rossa di Stradella e della frazione Torre Sacchetti e secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul luogo assieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco non è escluso che l'auto sia uscita autonomamente di strada anche per le cattive condizioni meteo e per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia battente del primo pomeriggio dopo l'allarme sul posto sono intervenute diverse equip con due ambulanze della Croce Rossa di Stradella e Pavia oltre a un'auto medica che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte la più grave è stata portata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia l'altra all'ospedale di Piacenza i carabinieri della compagnia di Stradella intervenuti per i rilievi stanno accertando l'esatta dinamica dell'incidente nella stessa curva della stradale 10 negli anni scorsi si sono verificati gravi incidenti anche con esito mortale e a Pavia restano forti le polemiche all'interno della Maugeri con i lavoratori ormai pronti allo sciopero e rimane aperto lo stato di agitazione sentiamo gli ultimi aggiornamenti sono pronti a proclamare lo sciopero i lavoratori della Maugeri di Pavia dove rimane aperto lo stato di agitazione i sindacati dopo l'assemblea di giovedì mattina hanno chiesto un nuovo incontro alla proprietà sul tavolo ci sono questioni economiche e normative da inquadrare in un contratto di secondo livello noi abbiamo rappresentato quella che era la situazione dopo la proclamazione dello stato di agitazione l'incontro con il prefetto e ora attendiamo diciamo un nuovo incontro con la proprietà o con i rappresentanti comunque del CDA per poter arrivare a definire una trattativa i punti dibattuti sono andati tutti nel versante affinché davvero quella dignità professionale attraverso una serie di riconoscimenti sia di carattere normativo che economico vengono immediatamente ripristinati da qui un nostro mandato ricevuto in modo sostanzioso nell'indirizzo anche di mettere in atto tutte le azioni di lotta le parti sociali chiedono rispetto della professionalità di medici infermieri del personale tecnico e amministrativo i lavoratori spiegano i sindacati dieci anni fa hanno permesso alla Maugeri di evitare il fallimento con i loro sacrifici ora è arrivato il momento che la proprietà faccia la sua parte è curioso che in un ente come la Maugeri dove si prendono cura degli ammalati l'amministrazione nella dirigenza non si prenda cura del proprio personale che poi conseguentemente deve mettere le mani alle ricadute poi su quello che è il paziente è una cosa che troviamo veramente curiosa dopo dieci anni all'interno dei quali il personale ha garantito alla Maugeri di avere questa sorta di stabilità noi questa cosa la stiamo denunciando ormai da parecchio tempo e riteniamo vista anche l'assemblea molto partecipata di oggi che Maugeri ci debba dare delle risposte serie e soprattutto pretendiamo di parlare con interlocutori seri perché fino ad oggi abbiamo visto gente che veniva gente che andava e forse è il momento che anche la governance dell'istituto di Pavia trovi il suo insomma A Tromello invece verrà riqualificato l'ambulatorio medico situato all'interno del palazzo municipale mancano però ancora una volta i medici vi è solo un operativo in un paese di circa 4.000 abitanti sarà ristrutturato l'ambulatorio medico al piano terra del municipio di Tromello ma per ora di medici neanche l'ombra questo è il paradossale caso del centro di neanche 4.000 abitanti dove operativo un solo medico di base la ristrutturazione dell'ambulatorio medico in comune era stata rinviata dopo che nel giugno di un anno fa l'altra professionista presente in paese aveva chiuso il suo ambulatorio per tornare a Pavia sua città di residenza un caso che ha agitato il comune di Tromello e che è anche l'emblema dell'emergenza che sta vivendo la sanità a livello nazionale segnata dalla carenza cronica di medici per mesi il comune si era mosso attivando un servizio temporaneo di continuità assistenziale con medici indicati a turno da SST per assistere chi avesse bisogno di visite ricette ed esami ora a Tromello in attesa che arrivi un nuovo medico assegnato da SST sono attivi gli infermieri di continuità per alleviare i disagi dei pazienti che necessitano di cure in particolare oltre 65 anni considerati fragili o malati cronici pazienti assistiti direttamente da casa il caso dei medici mancanti a Tromello non è però l'unico in Lomellina situazione difficile anche a Lomello centro di 2000 abitanti dove c'è solo il dottor Rossi dopo il pensionamento dell'altro professionista in paese a SST non l'ha sostituito ma ha indicato la possibilità per il dottor Rossi di accogliere altri 800 mutuati cercasi i medici infine anche a Valle Lomellina e Sartirana presenti nello stesso ambito distrettuale due centri che da inizio anno attendono la nomina di un nuovo medico a Valle è presente la dottoressa Frigerio che ha deciso di prestare servizio in paese e di chiudere l'ambulatorio di Sartirana il sindaco Pietro Ghiselli aveva ottenuto da SST la possibilità di aprire lo studio una volta a settimana un pagliativo in attesa di una soluzione definitiva che però ancora non si vede sono altri i problemi le preoccupazioni a Pinarolo Po dove cresce il malcontento e la preoccupazione per il progetto del nuovo biodigestore inizia anche un ufficialmente una raccolta firme per opporsi al progetto sentiamo troppe incognite sul nuovo impianto e poi di biodigestori ce ne sono già due a pochi chilometri a Bressana e Barbianello che bisogno c'è di farne un altro portando altro traffico pesante in una zona già problematica sono alcune delle domande che si fanno i promotori del comitato costituito lunedì sera a Pinarolo Po per contrastare il progetto ritenuto molto problematico per la vivibilità della zona abbiamo incontrato il portavoce del comitato che nelle scorse ore ha anche ufficializzato l'avvio di una raccolta firme fra i cittadini le nostre preoccupazioni maggiori al riguardo sono che abbiamo già un problema di traffico sostenuto per la famosa logistica che è stata creata e poi aumenterà in modo esponenziale se costruiranno questo impianto ma la cosa che ci preoccupa di più è che l'ambiente venga danneggiato e quindi vivere a Pinarolo possa diventare un problema ne abbiamo uno che è a tre chilometri di distanza che è a Barbianello località Bottarolo e ne abbiamo un altro a Bressana quindi crearne un altro in mezzo ci sembra una cosa a noi a nostro avviso assurda il tema qualcuno dice c'è un grosso levamento nei pressi di questo campo che potrebbe sopperire insomma al rifornimento di questo impianto si però da quello che è emerso l'approvvigionamento di questo impianto è una minima parte che richiede all'utilizzo dell'impianto quindi da dove arriva tutto questo materiale dall'esterno quindi traffico camion partiamo con la raccolta firma il giorno della festa nuovi progetti a San Nazaro dove si punta invece un nuovo impianto fotovoltaico non lontano dalla raffineria verrà realizzato il progetto dal comune nel giro di qualche mese un nuovo campo fotovoltaico San Nazaro sulla strada verso Ferrera Erbognone non molto distante dalla raffineria sarà realizzato dal comune nei prossimi mesi in Lomellina c'è stato molto dibattito sull'opportunità di realizzare dei campi fotovoltaici per l'impatto che questi impianti avrebbero sui terreni agricoli un tema che ha riguardato anche San Nazaro dei Burgondi più precisamente la frazione Mezzano dove si punta a realizzare quasi 5.000 pannelli fotovoltaici su un'area di 27.000 metri quadrati in un allevamento ormai dismesso diverso invece il caso del campo fotovoltaico che il comune di San Nazaro vorrebbe realizzare in via dell'Olmo su terreni incolti di proprietà pubblica sulla strada che porta Ferrera un impianto da mezzo megawatt di energia un progetto dal costo di mezzo milione di euro finanziato da avanzi di amministrazione e che corrisponde a una direzione ben chiara voluta dal comune che nei mesi scorsi ha avviato la comunità energetica per garantire sconti in bollette ai cittadini abbiamo un terreno che viene vicino alla strada per andare a Ferrera e in quel terreno abbiamo pensato di fare un campo fotovoltaico sarà un campo fotovoltaico di circa mezzo megawatt questo sarà appunto porterà grossi benefici a quello che si riguarda la nostra autonomia in campo energetico ma soprattutto porterà anche buoni risultati per quello che riguarda la comunità energetica che abbiamo creato una comunità energetica che con l'installazione del fotovoltaico e la condivisione dell'energia elettrica prodotta ai pannelli solari ha raccolto circa 100 adesioni tra i consumatori sarà la base da cui si potrà partire nei prossimi mesi abbiamo un paio di produttori oltre che ai consumatori per cui ovviamente i consumatori sono già lì pronti e i produttori piano piano cresceranno così come appunto cresceranno anche per il nostro operato appunto in questo campo fotovoltaico e anche in alcuni interventi che andremo a fare negli edifici pubblici voltiamo pagina torniamo a Pavia con le notizie per la nuova nomina all'interno del consiglio d'amministrazione della fondazione Teatro Fraschini il comune di Pavia ha scelto Matteo Rizzi come proprio rappresentante Rizzi ha lavorato prima nella società Pavia Network poi in linea com e in Adwea Smart City nel 2017 su nomina del presidente della provincia di Pavia di allora Vittorio Poma era entrato nel CDA della fondazione Pavia città della formazione ne ricopre anche il ruolo nel 2018 di vicepresidente dal gennaio 2021 su nomina del ministro dell'università della ricerca Manfredi è stato rappresentante del MUR nel CDA del conservatorio di musica Vittadini e per me è un onore a dichiarato Rizzi rappresentare il comune di Pavia in questa importante storica realtà culturale cittadina e cambiando decisamente argomento sempre a Pavia la partenza della 54esima edizione nel prossimo weekend della Vigevano Pavia Marathon tante le novità previste sentiamo nel prossimo servizio nel fine settimana torna la Vigevano Pavia Marathon la gara di canoa sulla lunga distanza sul Ticino giunta alla 54esima edizione sabato si svolgeranno le prove di allievi e cadetti e la prima edizione della Short Marathon mentre domenica sarà la volta di tutte le altre categorie a partire dalle 11 del mattino quest'anno è prevista anche una gara di dragone in rosa uno speciale tipo di imbarcazione sulla quale gareggeranno anche donne operate di tumore al seno sempre la domenica facciamo anche la partenza da Bereguardo quest'anno da Bereguardo perché non siamo stati in grado purtroppo di assicurare il servizio di sicurezza in acqua e quindi il nostro malgrado non l'abbiamo ridotta dai 42 km a solo 18 si parte da Bereguardo quindi appena a valle del ponte di barche di Bereguardo e si arriverà in canottieri con delle barche che sono le canoe monoposto-biposto kayak o canadese avremo anche i dragon boat avremo anche i sap standing up paddle cioè le tavole da surf su cui si si rimastando in piedi e i barcè barcè che sono le barche tradizionali di 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 pavia ancora con la pagina sportiva il basket nel prossimo servizio con la grande vittoria di Vigevano sulla nobile decaduta come Pesaro vediamo che cosa è successo nel prossimo servizio Vigevano ottiene la prima vittoria nel campionato di basket violando il prestigioso campo della carpegna prosciutto Pesaro appena retrocessa dalla 1 una partita giocata da manuale con cui i ducali hanno portato allo scoperto tutte le crepe di una formazione quella marchigiana che ha dimostrato di non essersi ancora ambientata nella nuova categoria l'impatto iniziale è eccellente con la Elachem che si porta subito sul 9 a 0 e arriva a dilatare il vantaggio fino al più 13 con un canestro di Mech e subito dopo una stoppata di Ojiuro il canadese e le ardini dominano sotto le planche Pesaro soffre oltremodo l'assenza di Petrovic e soccombe al rimbalzo nel secondo quarto la carpegna prosciutto riesce a sistemare un po' le cose in difesa ma Vigevano è brava a non ripetere l'errore commesso contro Cremona e continua a variare gli attacchi potendo comunque contare su uno Stefanini da 24 punti e 8 rimbalzi Pesaro dopo essere riuscita ad arrivare su 30 pari retrocede di nuovo fino al meno 8 dell'intervallo completamente sbagliato l'approccio della squadra di casa rientro dagli spogliatoi una serie di palle perse innesca le transizioni Vigevanesi la carpegna prosciutto non crolla solo perché Peroni e Mech si vedono respingere dal ferro le triple che avrebbero ucciso il match Vigevano arriva su più 17 poi abbassa le percentuali e perde qualche pallone ma dall'altra parte mancano soluzioni in attacco contro la difesa giallo-blu non possono bastare le iniziative in solitaria di Akhmad e infatti Pesaro fatica a rientrare la carpegna prosciutto arriva fino almeno 7 a 4 minuti dal termine ma viene risbattuta indietro con forza da una schiacciata di Oggiuro Mech e Stefanini arrotondano il risultato fino al 67-80 finale e questa era anche la nostra ultima notizia non ci sono ulteriori aggiornamenti non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione Grazie a tutti